il più preoccupato di tutti in effetti è sembrato proprio l'attaccante del Milan eccolo qui l'impatto sulla testa di Hart e proprio sconsolato la Padula che ovviamente non voleva fare del male al portiere avversario quasi in lacrime la Padula va a sincerarsi delle condizioni per ricordarvi l'appuntamento qui su Rai 2 anche in diversi minuti dopo il fischio di chiusura e poi soprattutto